questa è la tagliata, scamone di angus, scamone di angus, come la mettiamo sulla griglia? Giro, dovrebbe essere da qualche parte, angus irlandese, è lo scamone dell'angus, sai cosa è l'angus signore? è una razza di vitello, come dire, chianina, fasona, tutto quanto, però sono animali che nascono, crescono e vivono fuori, il primo tetto che conoscono è la cielo a frigo una volta ammazzati, perciò, essendo animale di pascolo, la carne più rosa, c'è un'altra alimentazione, il gusto è spettacolare, a vuole il resto del tutti i miei, iniziative, un'altra alimentazione, c'è un'altra alimentazione, si torna un po' più altissime, iniziative e meti, off suposti la città, Grazie a tutti. 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 Allora, questo non ce l'ha, questa invece ce l'ha, e invece il piatto visto cosa faccio? Ce la metto? Così se succede qualcosa mi arrestano, dai, dai tranquillo. Faccio così, dai, 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 dai. E adesso, ambiente, ti può fare, dai, 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 dai. E ci scontriamo sempre con i treni. C'è, se avevamo dei mangiati? Sì. L'hai già detto. Sì. Sì, come ti piace, se vieni davanti alla telecamera, eh, dottor? L'ho posto l'opinione, l'ho cercato, ci fosse... Guarda, amore! Ma questa non ce l'ha! Eh, va bene? Allora, per i clienti ti servono due. Sì, il本ioro, non salto un palo con salto, non l'ho guardò dei coppi Oh,bok. Siamo i modesti, non lo jueguo, non lo dic ISED. Sì, perché non lo faccio pure, non lo faccio pure? Vada. Grazie.